Ragazzi bentrovati, bentrovati, sono un po' ritardo mi sa questo mese, è già marzo ed è il video acquisti più ritardatario mi sa che ho fatto perché ho avuto un po' di roba da fare, sono andato a Milano, ho lavorato eccetera eccetera, sono tornato adesso e oggi stesso, questo venerdì di metà marzo ho preso tutti i miei fumettoni dal fumettaro, in più qualche altra cosa che vedrete, classico acquisto mensile eccetera eccetera voglio oggi farvi vedere cose interessanti, ci sono sempre le solite serie che seguiamo, poi lo sappiamo, ma ci sono anche cose belle che ho letto o che ho appunto appena preso e leggerò, ci sono novità e ci sono anche poi alla fine delle cose finali un po' stupide questo ricordandovi anche che innanzitutto dovete fare l'iscrizione a questo canale perché riusciamo ad arrivare a mille secondo voi fra vent'anni, entro vent'anni io mi metto questo obiettivo e non solo, quindi se lo avete fatto iscrivetevi ma ragazzi, per chi vede questo video e sa già, forse non lo sa o forse non conosce bene ricominciamo a fare qualche live su Twitch a partire da questo sabato, sabato 18 se non ricordo male non mi ricordo che giorno è oggi, sabato 18 alle 21 iniziamo, sarà una nuova vita del canale Alcor 3D che trovate comunque come sempre nelle descrizioni del canale ma comunque Alcor 3D su Twitch e dopo 5 anni di streaming di cui uno praticamente non fatto, si torna a fare streaming un po' più con calma facendo un po' di giochi giusto per farli insieme e per avere un po' di compagnia entrambi che secondo me è una cosa sempre divertente, ma bando alle ciance, vi aspetto sicuramente questo sabato ma ora andiamo a vedere subito i video acquisti cominciando da Panini e Planet Manga Planet Manga ragazzi parte subito con qualche serie che era indietro da un po' ma che abbiamo già pareggiato facilmente per esempio sto parlando di Spy Family di cui qua vedete il numero 9 e ovviamente anche il numero 10 Spy Family che adesso esce ogni tanto, quindi non esce più con la stessa cadenza di prima hanno lasciato ovviamente fino adesso e adesso si sta un po' rilassando e secondo me la vedremo fra un po' ero rimasto un po' indietro perché sono quelli che non vedi quasi mai e poi quando li vedi in fumetteria dici ma l'avrò preso Sakamoto invece Days con il numero 4 e con il numero 5 rimane uno degli shonen secondo me più carini dell'ultimo periodo leggerino, stupidino, ha una narrativa sottesa del non poter parlare a Sakamoto sapete che più chi lo legge non parla in realtà parla solo col pensiero più chi lo legge lo sa divertente, banale, leggerino però è di quelle cose che hanno fatto tanto anche per promuoverlo e ci sta dentro devo dire che la Panini ha fatto comunque un'ottima mossa anche qua due numeri ragazzi cambiamo completamente tematica con Die Dark con il numero 4, guardate che belle le copertine della Yashida ragazzi è il numero 5 Die Dark appunto della Kua Yashida che è quella che ha fatto Doro e Doro e la storia chiaramente di Die Dark fino almeno al numero 3 che ho letta è meno secondo me potente di quella di Doro e Doro ma comunque sempre intrigante e comunque sempre i disegni spaziali io ribadisco una delle mie perché all'inizio non si sapeva adesso si sa una delle mie disegnatrici preferite fa delle tavole adesso io non so cosa vi sto facendo vedere però fa delle tavole veramente stupende e vi dico secondo me con Doro e Doro aveva dato il massimo questa è comunque una bellissima è una storia carina anche questa divertente insomma invece Doro e Doro c'era anche un po' di cose andiamo avanti perché? perché l'ho letto l'altra volta e mi è piaciuto con Bentornato Alice o Alice come volete nominarlo Bentornato Alice vi faccio vedere i due protagonisti ma anche la terza protagonista perché questo manga tratta di un triangolo amoroso fra questo ragazzo e queste due ragazze o ragazzo che è innamorato e vedete queste due ragazze in copertina in realtà però questa ragazza che vedete in copertina non era una ragazza prima e si basa era il migliore amico del protagonista si basa su questa tematica un po' questa storia questo intreccio questa sorta di pizzicorino voglio spiegarvelo bene è una storia che dà a questi ragazzi questi giovani le prime turbe sia giovanili che chiaramente un po' mentali comunque questa sorta di saper dover decidere cosa ti piace chi ti piace qual è la propria sessualità eccetera è molto carino devo dire che non me l'aspettavo ma mi sta piacendo come mi è piaciuto anche l'altro di Yoshimi che vedrete poi nei futuri video acquisti mi sta piaciucchiando anche Mieruko Chan Mieruko Chan che l'altra volta nell'altro video acquisto avevate visto con numero uno con gli adesivi in omaggio tratta della storia di questa ragazza per spiegarvelo un po' meglio che vede gli spiriti che popolano questo mondo brutture cose anche cattive così ma lei non vuole far sapere agli spiriti che li vede quindi vive nel tentativo di ignorare tutto ciò che vede per evitare di essere vista a sua volta o notata dagli spiriti che capiscono quindi che lei li vede e quindi chissà cosa potrebbe succedere quindi lei vive ignorando e facendo chiaramente in modo che anche gli amici che non vedono gli spiriti ignorino queste presenze ed è carino anche questo non è un horror vero è un horror stupidino tipo dan da dan per dire ho trovato anche interessante My Home Hero questo è il numero 3 forse ve l'avevo già parlato non mi ricordo se l'avevo già parlato però mi sembra di sì il padre che comunque deve aiutare la figlia che si è mischiata in cose mafiuose diciamo così numero 3 l'ho preso è uscito già il 4 ho visto non ho ancora fatto in tempo neanche a leggere il numero 3 è carino perché comunque la storia è abbastanza seria ma neanche troppo quindi da anche questa sorta di inverosimile che fa sempre piacere con calma vado avanti anche col numero 2 di Evangelion nuova edizione che ha questo bellissimo posterino dietro che ovviamente non ci sta nel manga che esce e ovviamente essendo questo manga per contenere il posterino tutto incelofanato il celofan intorno è quello stretto 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 che chiaramente rovina tutti gli angoli dei posterini io questa cosa qua mi fa salire un crimine incredibile e quindi meglio che non ci penso Evangelion numero 2 anche Soul Eater la Mega Super Red Relax Edition Ultimate Deluxe numero 2 devo ancora leggere l'uno ok non che Soul Eater non ho mai finito di vedere questa è una confessione che devo farvi non ho mai finito di vedere e penso che non lo finirò mai di vedere ma lo leggerò sicuramente e devo dire che la nuova edizione è bella e profuma profuma di manga nuovi e l'altra volta lo avevate visto ma non ne abbiamo parlato perché non l'avevo ancora letto adesso il numero 1 l'ho letto Songot il punteruolo con questo bellissimo logo di Planet Manwa un manwa di Choi Yusok che è quello appunto che ha fatto Hellbound un manga che parla di un uomo che aiuta le persone a rivalersi dei propri diritti sul mondo del lavoro vedete ma che noia è invece no è proprio intrigante anche perché secondo me se fate parte di un contesto lavorativo noi li chiameremmo sindacati non è proprio parte dei sindacati però ha anche a che fare in un manga si parla anche dei sindacati eccetera eccetera qua è chiaramente molto estremizzato molto romanzato però in realtà ha questa cosa verosimile che ti rende quasi partecipe perché hai visto queste cose certe situazioni dice mannaggia ha fatto bene a farli fare queste cose in più c'è anche tutta la storia che chiaramente sapete c'è un po' di malavita vedremo come andrà a finire quindi è più appunto romanzato questi erano i primi manga della planet manga ma due novità oltre a quelle cose che vedrete alla fine che sanno parte delle variant ma due novità che oggi mi sono fatto consigliare dal fumettano e che non ho ancora letto quindi ne li vedremo e poi ne parleremo più avanti il primo è The Witch and the Beast mi ha raccontato un po' la sinossi The Witch and the Beast tratta di questo personaggio che arriva in questa città che sembra che in questa città vada tutto molto bene fin troppo bene e forse questa città è dominata appunto da una strega adesso poi devo chiaramente leggerlo questa è la sinossi che mi ha detto ma la cosa che mi ha fatto prendere chiaramente questo manga anche perché comunque mi sembra della trama una trama classica sono appunto i disegni mi ha detto va che i disegni valgono veramente adesso ciò vi farvi vedere un po' senza distruggere il manga perché ricordano un po' quelli di claymore ultimo livello diciamo claymore finali e in effetti sono veramente veramente belli e anche un po' crudi un po' pesanti mi piace lo stile poi vi ne parlerò e l'altro che mi ha integra ragazzi questo l'ho preso per la copertina e un po' per la tematica vi ricordate tanto tempo fa avevo comprato un manga che si chiamava Alma post apocalittico le macchine che dominano il mondo nuovo contro l'umanità ecco questo qua la trama avendo la letta è un po' quello si chiama heart gear un mondo dominato dalle macchine bla 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 ma guardate ancora letto anche questo guardate ragazzi solo la copertina gli ho detto è troppo bello poi all'interno non è così non è tutto così però ha delle tavole questa è la tavola facile questa è la tavola della copertina ha delle tavole veramente belle ma ha detto il fumettaro che ricorda un po' nero automata come chiaramente ambientazione questo l'ho preso sulla fiducia e direi che per ora planet munga è finita possiamo passare alla star comics che oggi ha un po' di roba la star comics ragazzi ha un po' di roba alcune più classiche altre meno per esempio classica 97 di one piece edizione bianca sapete io faccio edizione bianca si continua con la trama si va avanti one piece boh possiamo dire che ormai per chi lo legge chiaramente è una costante della vita non lo so lo leggo da talmente tanto che non mi ricordo neanche appunto quando l'ho iniziato e potenzialmente potrei anche arrivare alla vecchiaia e va sempre bene poi mi è piaciuto il numero uno e quindi si va avanti con Ayakashi Triangle Ayakashi Triangle ragazzi che vi ho detto l'altra volta di Kentaro Yabuki autore di To Love Rue eccetera eccetera è una storia che tratta chiaramente anche qua un po' alla ramma mezzo dei tempi le vicissitudini di questo ragazzo che per una maledizione si trova a diventare ragazza e combattere cose è carino è ammiccante è simpatico è una cosa comunque molto leggera quindi una lettura che se vi piacciono quei manga di una volta un po' ammiccante ma non troppo è proprio leggero come ramma più o meno così questo sicuramente fa il caso vostro arriva poi il cofanettone finalmente l'ho preso ma lo volevo prendere da mesi poi ogni volta ma la prossima volta la prossima volta e alla fine l'ho preso il cofanettone di Ariadne in the sky with diamonds no Ariadne in the blue sky scusate contenente i primi quattro numeri di Ariadne perché io non ho mai nascosto anche questo non non avevo mai letto nulla di Yagi ho iniziato con Claymore appunto e mi è piaciuto molto mi sta piacendo molto Claymore proprio anche come storia come ambientazione per quanto non sia Claymore lo paragono spesso a Berserk non c'è nulla di più lontano secondo me da Claymore da Berserk non è la stessa anche il tono non è le stesse cose però è molto bello molto avvincente questo è un altro dei grandi capolavori di Yagi come solo a dire e volevo leggere tra l'altro ho la variant numero uno uscita a Lucca ma non l'aprirò perché si rovina e quindi l'ho preso vi farò sapere devo dire che sono molto curioso perché questo appunto è ipercuotato questo è un cofanetto da 20 euro con i primi 4 nomi dovreste trovarlo ancora forse non lo so poi il bellissimo ragazzi incredibile mancabile Children of the Whales numero 21 stiamo arrivando alla fine raga io ve lo dico sempre se questo fumetto se questo manga di Abi Umeda avesse avuto la stessa storia ma senza due o tre personaggi tra cui Chakuro che è il protagonista sarebbe stato un grandissimo manga purtroppo non riesco più è un altro di quei manga che ce la faccio più non vedo l'ora che finisca basta The Adventure of Dai ragazzi il numero 4 era fermo da un po' non lo vedevamo da un po' perché sapete è stato annunciato che è stato chiuso per varie vicissitudini dovute a problemi di come si dice di localizzazione o cose del genere in realtà oggi parlando proprio del fumetto mi diceva che non è proprio così in realtà diciamo che c'è una questione di allineamento non vi sto a spiegare tutto perché è una cosa lunga e complessa c'è una questione di allineamento globale dell'edizione quindi diciamo che il Giappone vuole che mentre l'edizione italiana ok va bene però anche nel resto del mondo devono un attimo sistemare delle edizioni e quindi riprenderà riprenderà comunque cioè non è dimenticato lì e non sarà dimenticato lì ci vorrà forse un po' l'ultima novità della Star Comics che l'ho presa ragazzi perché stavo tornando da Milano in treno e non avevo niente da leggere one shot volevo una cosa tranquilla e lo sapete entro a Mondadori ci sono tante cose ma quando vuoi leggere una cosa one shot sul treno per far vedere a tutti i tuoi viaggiatori che hai intorno quanto sei caffone e ganso devi prendere Giungito ovviamente ho preso la zona fantasma che è chiaramente l'ultima opera uscita di Giungito con una copertina ragazzi bellissima dorata un po' serigrafata non so come si dice un po' ruvidina zona fantasma anche qua contenente una serie di storie storie che Giungito stesso dice ha raccolto negli anni perché adesso non sa più cosa scrivere tutti i mangaka ormai a un certo punto dicono io non so che cazzo scrive avevo questi appunti tipo ragazzi in un bosco si perde e ci ho fatto una storia horror sono mi sembra quattro storie molto carine in realtà alla Giungito quindi malate come sempre e su storie che secondo me ragazzi se andate adesso non volevo dirvi però se andate in treno e fate vedere una tavola una tavola del genere spacca no sto scherzando però è veramente molto bella costa 15 euro ero lì sul treno l'ho letta e anche la Star Comics è finita tanta bella roba adesso anche se non solo due ma la copertina ce l'abbiamo usiamola ogni tanto andiamo a vedere la J-pop e la J-pop ragazzi ci porta due numeroni no non è vero il primo è Tsugumi Project al numero 3 Tsugumi Project è un altro di quei manga post apocalittici di questi mercenari mandati in un Giappone ormai distrutto questo qua incontra una ragazza con una t vabbè è una cosa molto figa purtroppo esce ogni morte di papa quindi ogni volta devi ricordare sapete la sindrome del ricordo ricordare cosa è successo però mi piaceva adesso è sempre iper consigliato se uscisse io aspetterei magari che finisca poi no non è che mi vergogno però non lo so allora dall'autore di Tokyo Ghoul lo sapete Chujin Chujin X ragazzi questo lui allora con all'interno una bellissima una bellissima fake polaroid che riprende la copertina che riprende anche la prima pagina all'interno quindi è un po' tutto uguale non ho mai letto ho letto tre numeri di Tokyo Ghoul poi avevo smesso molti mi dicono stupido dovevi leggerlo tutto è molto bello non mi aveva entusiasmato questo devo dire che mi sono fatto trasportare dalla copertina adoro le copertine fatte così pulite ganze bianco con rosso ma vediamo se questo dicono che sia un'opera un po' più d'autore diciamo su Ishi è un'opera un po' meno pesante quindi potrebbe essere interessante da leggere un po' più tranquillamente vediamo un po' vi farò sapere vi farò sapere se lo vedrete ancora vuol dire che mi è piaciuto questa è la J-pop andiamo però prima sulle altre marche altre marche che poi sono altre case editrici non marche però sono anche marchi probabilmente andiamo avanti tranquillamente con il 10 di Red of Healer la vendetta dell'eroe della cura mi sta un po' annoiando un po' sempre la stessa roba ci sono pochi sono gente che si aggiunge upgrade più donne con cui lui fa cose adesso c'è una storyline interessante dove penso si arriverà verso il finale lui ha una missione penso arriverà però niente di che questo tra l'altro è un ecci un po' pesante perché si parla anche di cose pesantine tematiche un po' brutte a volte però non è quegli ecci che è una storia devastante evitabile se siete ancora indecisi si prenderlo evitabile invece questo però questo non potrò parlarvene tanto perché adesso ho già completato la serie però magari ricordatemelo oppure venite su Twitch dite com'era ho preso SM6S o 6M che è il numero 1 e il numero 2 copertine ragazzi interessanti e imprescindibili è un manga che parla chiaramente del stato masochismo e a vedere cose interne non è niente di non è niente di porno innanzitutto non è niente di esagerato è credo un altro di quei manga stile Nane Kaoru che si avvicinano a quel mondo e ne vogliono parlare sono due numeri vediamo un po' non mi aspetto niente di che però imprescindibile ultimo ragazzi della Ishi non sapevo l'esistenza di questa casa editrice che tra l'altro propone una cosa che era prima della J-pop se lo ricordo male ce l'ho qua dietro ma direi che era della J-pop diamo per buono che era J-pop non ho ancora finito neanche quello però lo volevo prendere comunque perché a proposito di vita da slime a spasso per Tempest della Ishi quindi preso dalla Ishi che è una storia parallela non una storia parallela una storia aggiunta di vita da slime con una cartolina anche qua un po' cartonata serigrafata la volevo volevo la cartolina mi piace vita da slime devo finire ancora l'altro con calma lo finirò però intanto abbiamo anche questo basta questa era la J-pop no altre case editrici andiamo ragazzi per ora agli acquisti speciali ragazzi giuro 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 che ho quasi finito innanzitutto un fumettone cambiamo completamente genere il volume 2 della Deluxe di Teenage Mutant Ninja Turtle con grande splinterone malloppone ma ragazzi io non ho mai letto nulla lo dicevo l'altra volta delle tartarughe ninja il primo volumone della Deluxe che contiene una serie di storie delle TNT delle tartarughe ninja cioè tutta la collana raccolta dentro questi deluxe qua veramente bello è bello ritornare rivedere le tartarughe ninja è bello anche come le affronta in una maniera molto più dark molto più matura molto più seria ma anche con le solite cavolate dalle tartarughe ninja questo ci tengo molto a leggerlo tutto e lo farò assolutamente tutto perché a me piace tantissimo e poi ragazzi a lato come vedete è la l'impugnatura della spada poi arriviamo finalmente alle cose fighe lo sapete è uscita la variant di Blue Lock panini con la rovesciata panini una delle iniziative secondo me delle variant panini più belle a livello anche concettuale poi non è così unica però è bella un manga che parla del calcio con la variant dedicata alla casa editrice che lo produce con la rovesciata classica che abbiamo sempre visto fino a quando erano bambini bella mi piace con i variant e finalmente mi dà l'opportunità di leggere Blue Lock che mi è stato consigliato ho sempre snobbato perché mai del calcio dopo gli ebenji per me è finita lì il mondo finisce inizia e finisce con gli ebenji o capitanzi bada scusate però a questo punto con calma perché non voglio rovinarlo magari tolgo la variant vorrei provare a leggere anche Blue Lock che mi hanno detto è un manga sul calcio ma non aspettarti troppo calcio c'è anche altro vediamo un po' poi invece ragazzi arriveranno altre variant che ho questato vedrete nei prossimi d'acquisti ma intanto della Games Academy e fan side della variant di non tormentarmi Nagatoro numero uno guardate che carina questa variant anche qua pagata a tutto ragazzi poi qua a me piacciono tantissimo lo sapete le variant prese il 99% prezzo di copertina tranne una che avevo presa a 10 euro al posto di 6,90 euro perché era più bella perché non si trovava però questa è carina non so se è ancora disponibile però se volete andare a vedere su Games Academy se c'è questa è la variante molto molto carina di non tormentarmi Nagatoro che lo sapete mi piace quindi bellissimo il tutto con allegato chiaramente tutti questi acquisti qua l'ultima card mensile di Bungo Stray Docks come vedete è la carta più brutta ma no non è vero però insomma è l'ultima carta che tra il trio Bungo Stray Docks non lo leggo ma potrò non prendere l'otto di otto visto che vedete non si vedono non si vedono sono tutte lì esposte è imprescindibile tocca e questo ragazzi era quanto ma prima di andare via innanzitutto ragazzi rivalisco sabato in stream Hogwarts Legacy si inizia finalmente anche io poto giocarlo qualche fan del K-pop non lo so ho fatto si parla chiaramente di acquisti in questi mesi quindi vedete adesso semplicemente perché ce li ho qua ho acquistato ragazzi Handwulf delle MX su Vinted Vinted posto dove prende tutte queste cose a prezzi stracciati Admire sempre delle MX che sono i due album e anche Antifragile delle Seraphim che sono album bellissimi e io essendo fan del K-pop ho anche questi ho anche questa collezione basta non vi dico più altro spero che vi siate divertiti vi ricordo ovviamente come sempre di iscrivervi al canale voglio vedere mille ribadisco entro poco quindi dai facciamo questa iscrizione ci vediamo la prossima volta spero settimana prossima con un video della Spagna e voglio farvi anche un video su come metto i manga in libreria ho preso il polistirolo per me vi spiegherò spero di riuscire a fare intanto ci vediamo anche se no su Twitch domani 18 se ci siete quindi sabato oppure nelle prossime volte vi ringrazio come sempre per la visione e a presto a presto a presto a presto a presto